Ciao ragazzuoli! Allora oggi è maltempo e quindi abbiamo deciso di andare a sistemare un po' le cassette perché? Perché ci troviamo come sempre a dover scegliere un miliardo di esche da mettere dentro la nostra cassetta ma che però poi alla fine 5, 6, 7, 10 utilizziamo e quindi ogni stagione cerco di mettere in vista le cassettine c'è gli artificiali che mi piacciono di più in una cassettina piccolina, questo perché tante volte mi piace uscire in maniera rapida e veloce quindi mi porto una scatolina abbastanza compatta con dentro 10-12 artificiali che andrò a utilizzare per cercare la spigola e adesso la sistemo così vedete cosa mi porto in questo periodo Allora, primo artificiale che non manca mai in questa stagione è sicuramente l'imana barone perché? Perché stiamo tornando alla necessità di avere delle vibrazioni un po' più forti e quindi l'imana barone è perfetto lo trovate come spiegazione qui sotto ve lo lascio come link in un video che abbiamo già fatto in passato e che non sto quindi qui a spiegarvi tutte le varie caratteristiche che ho Il secondo artificiale che entra sempre tra i must che assieme al nabarone ho sempre 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 in cassetta è sicuramente lo smith a lucca in questa stagione vado a prediligere di colori magari più accesi, più pieni perché? Perché in questo periodo magari troviamo acque più torbide e abbiamo bisogno magari di quel riflesso che gli piace di più alla spigola Il terzo artificiale che vado poi a mettere dentro la cassetta è sempre un artificiale che va sotto e in particolare ho preso il Rebellion di Casa Seica Perché ho messo il Rebellion di Casa Seica? Perché lo lancio ovunque, se ci sono i Serra non ho mai paura di perderlo e quindi in cassetta 1, 2 lo metto sempre perché mi risolve tante volte la giornata Un'altra artificiale che poi aggiungo alla mia cassetta per avere una vibrazione forte che in questo periodo può regalare appunto la cattura è il Duo Ryukis Pered 95 Sinking ce l'ho di vari colori perché? Perché c'è un artificiale che mi piace tanto per creare casino in acqua e per pescare anche su acqua abbastanza profonda e quindi ne ho sempre 2 o 3 colori in cassetta in particolare a me piace tantissimo magari il bianco ma i naturali sono sempre ben accetti in cassetta quindi un paio di questi li metto sempre nella mia cassetta Altri artificiali che non devono mai 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 mancare nella nostra cassettina sono sicuramente qualcosa di un po' più piccolo perché in questo periodo prediligo anche andare a pescare a volte la sera perché le giornate mi si accorciano e quindi non ho la possibilità magari di andare a fare un tramonto come durante l'estate o tutte le sere e quindi vado a pescare magari in ordini d'acqua diversi vado a pescare su punti dove ci sono delle luci e quindi vado ad aggiungere nella mia cassetta anche un artificiale più piccolino in particolare sempre di casa Duo abbiamo preso il Kagura 77F è un artificiale veramente vibrolento uscito da poco nei cataloghi di casa Duo che però si lancia veramente distante e mi ha regalato delle belle catture adesso in istrio fine stagione chiamiamolo così poi in cassetta sicuramente non deve mancare della gomma perché perché in questo periodo ci capita molto spesso appunto di andare a pescare su zone luminose e quindi dobbiamo aggiungere della gommina come gommina non sto lì a sbattermi troppo la testa e prendo tante volte un semplice wiki shad montato in testina magari da 5-10 grammi e ci abbino sempre ad avere in cassetta un paio di misure del Black Minov io ad esempio amo tantissimo il misura 9 perché quando andiamo a pescare su fari o su posticini portuali con delle luci regala sempre sempre delle catture perché assomiglia a una piccola piccola acquadella che si trova spesso nei porti che abbiamo un'altra esca che dobbiamo sempre avere in cassetta e questa ci serve sempre però per pescare in ambienti magari di acqua bassissima è la gomma gigante montata a Texas con l'amo diciamo anti-alga con il pesetto sopra anche di questa una in cassetta male non ci sta poi cosa dobbiamo cosa ci manca alla nostra cassetta non manca praticamente niente se non che a volte aggiungere qualche altra colorazione del di qualche altro jerk andando a prediligere magari dei colori floresciosi delle esche sempre più vibranti e quindi io aggiungo visto che ho sempre dello spazio in questa cassettina anche il Blue Wing di casa Blue Blue che è un 140S ma ho anche il 125 Floating e un altro Ryuki Spear Head la nostra cassetta è abbastanza pronta adesso speriamo che nelle prossime settimane riesco a mostrarvi un video in pesca così da poter sfruttare al meglio questa cassettina è una cassetta piccola che non impegna tanto spazio e quindi me la porto volentieri a pesca noi ragazzuoli ci vediamo con il prossimo appuntamento statemi bene, ciao!